Palatricoli Amaro per la Filiani BPA che dopo la sconfitta all'ultimo tiro contro Bologna per la seconda volta consecutiva deve fermarsi fra le mura amiche, questa volta al cospetto di Casale e della sua coppia di mori americani, Green e Ware, che nell'anticipo della quinta giornata fanno il bello e il cattivo tempo, firmando insieme 61 degli 88 punti complessivi del quintetto piemontese. Non possono bastare alla Filiani BPA Maggioli e Griffin e quell'unico quarto, il terzo, in cui alla difesa di Iesi riesce di tenere a soli 15 punti segnati l'attacco di Casale. Un'Aurora che nei primi 20 minuti incassa 49 punti e nei secondi fa appena 1 su 14 al tiro da 3, accetta e perde una sfida a ritmi a cui gli arancioblù non riescono e ne possono star dietro. A gioco lungo la squadra di Cioppi riequilibra la sfida al rimbalzo, che l'aveva vista indietro a inizio gara, ma perde troppi palloni, 20 contro 5 recuperati, per riuscire a fare di più di una tenace resistenza ai frombolieri della 9 più, fino quasi all'ultima curva, quando ci si mettono le tripe di Ferrero e Malaventura a far compagnia ai punti a stelle e strisce e Iesi deve alzare bandiera bianca un po' prima del quarantesimo. Peccato, l'Aurora non riesce a dar seguito a quello che era stato nel turno precedente il blitz del Pararuggi di Imola e se vorrà rifarsi dovrà di nuovo farlo in trasferta. Ancora un anticipo TV per la diretta Rai Sport, venerdì 9 novembre a Forlì, sul cammino di Maggiore e compagni.